Maxi blitz antidroga da parte della questura di Arezzo, oltre 40 i poliziotti impegnati in questo rastrellamento che è partito da Campo di Marte, quindi la parte alta di via Vittorio Veneto, per arrivare in quella dove ci troviamo in questo momento con poi il blitz vero e proprio all'interno del bar Europa. Qui sono stati rintracciati e arrestati due pusher, il bar è stato chiuso. Perché in effetti spacciano tantissimo qui, almeno si spera di riparare un po' di danni. Il blitz è stato portato avanti anche grazie agli agenti del reparto prevenzione anticrimine di Firenze con l'ausilio di cani antidroga e supportato dagli uomini della polizia municipale. Dalla zona del Pionta, in via Piave, fino poi al bar Europa, qui i cani antidroga hanno annusato le dosi in possesso dei due magrebini che sono stati arrestati. Altre quattro persone clandestine sono state denunciate per reati contro l'immigrazione. Comunque siamo molto lieti che abbiano arrestato gli spacciatori. Penso io non lo sospettavo neanche che lo fosse. Il bar Europa è stato chiuso, il cui ex proprietario anni fa si era rivolto alla questura chiedendo aiuto contro i pusher che infestavano il locale e innescando un'altra maxi operazione della squadra mobile. Gli attuali proprietari sono cinesi. Lo sapevano tutti. Era meno colpa dei cinesi perché non riusciano a mandare via questa gente.